la sofferenza di gesù nella passione mirabile disegno d'amore di maria galbiani la sofferenza ha contraddistinto tutta la vita di gesù a partire dalla sua nascita a bethlem fino alla sua ignominiosa morte sulla croce povertà disagi umiliazioni disprezzi persecuzioni sono stati presenti fin dal momento dell'incarnazione sono cresciuti durante la sua vita pubblica e hanno trovato il cumine sul calvario l'opera della salvezza si doveva compiere nel dolore attraverso il dolore come già era stato preannunciato dalle scritture il profeta esaia nel suo carme del servo sofferente prevede ed escrive anche nei dettagli la passione di cristo non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi disprezzato e reietto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosce il patire maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo isaia 53 2 7 tutto questo per salvare l'uomo peccatore e prendere su di sé le conseguenze del peccato egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da dio e umiliato egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui per le sue piaghe noi siamo stati guariti isaia 53 5 6 anche molti salmi preannunciano le sofferenze del messiere dentore così come molti personaggi biblici dell'antico testamento rivelano e prefigurano in qualche modo il volto del cristo sofferente tutto l'antico testamento converge verso l'opera della redenzione perata da cristo attraverso il suo sacrificio ciò dimostra che la sofferenza e la morte non sono una fatalità nella vita di cristo il quale l'obbedienza all'eterno progetto divino di amore gli elegge come mezzo di salvezza per l'umanità assegnata dal peccato e dalla morte cristo accetta il piano di dio con la finezza della sua volontà umana e divina il servo sofferente e questo è a sua volta essenziale per un'analisi della passione di cristo si addossa a quelle sofferenze di cui si è detto in modo del tutto volontario cristo soffre volontariamente e soffre innocentemente giovanni paolo secondo salvifici doloris numero 18 nel vangelo diverse volte gesù esprime la volontà di sacrificare la sua vita per la salvezza dell'umanità in obbedienza al progetto del padre nel discorso sul buon pastore afferma per questo il padre mi ama perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo nessuno me la toglie io la do da me stesso ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio giovanni 10 18 cristo inoltre soffre come dio e come uomo ed è in questo senso che dona la sofferenza e alla morte abbracciati lui e per lui un valore soprannaturale lui uomo dio con la sua sofferenza e morte può riscattare l'umanità colui che con la sua passione morte sulla croce opera la redenzione è il figlio unigenito che dio ha dato e nello stesso tempo questo figlio consustanziale al padre soffre come uomo la sua sofferenza dimensioni umane anche uniche nella storia dell'umanità una profondità ed intensità che pur essendo umane possono essere anche incomparabili profondità e intensità di sofferenza in quanto l'uomo che soffre è in persona lo stesso figlio unigenito dio da dio salvifici doloris numero 17 la sofferenza di cristo sfoce nella morte dalla morte di cristo sgorga la vita attraverso la sua morte cristo sconfigge la morte per sempre dona la vita sempiterna afferma quasi in un inno trionfale san paolo quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di mortalità si compirà la parola della scrittura la morte è stata ingoiata per la vittoria dove è o morte la tua vittoria dove è o morte il tuo pungiglione il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato e la legge siano rese grazie a dio che ci dà la vittoria per mezzo del signore nostro gesù cristo prima corinti 54 57 suggestiva tal riguardo è un'antica omelia sul sabato santo di melitoni di sardi che mette in evidenza la salvezza e la vita soprannaturale che scatolisce dalla passione morte di gesù per te io tuo dio mi sono fatto tuo figlio per te io il signore ho rivestito la tua natura di servo per te io che sto al di sopra dei cieli sono venuto sulla terra e al di sotto della terra per te uomo ho condiviso la debolezza umana ma poi sono diventato libero tra i morti per te che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei in un giardino sono stato messo in croce guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te per poterti restituire a quel primo soffio vitale guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati guarda le mie mani inchiodate al legno per te che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire eva dal tuo fianco il mio costato sanò il dolore del tuo fianco il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno la mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te sorgi allontaniamoci di qui il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso io invece non ti rimetto più in quel giardino ma ti colloco sul trono celeste tali sono i frutti mirabili della passione di gesù ogni sequenza dei suoi dolori ha una funzione salvifica infinita finalizzata a ricostruire nell'uomo l'immagine e la somiglianza divina deturpata dal peccato e a riaprire per lui le porte del paradiso scrive magistralmente dondolindo ruotolo la passione di gesù è l'opera mirabile del redentore è l'attuazione di un piano sapientissimo egli compie e attua un mirabile disegno nel quale gli uomini non sono che la miserabile materia grezza e marcita che egli utilizza egli è il nobile trionfatore che entra nel campo desolato della morte e tutto tramuta in vita e in gloria immortale egli è l'operaio solerte che consuma la sua giornata nello spasimo atroce nel quale pare sopraffatto e vinto mentre in realtà trionfa i suoi dolori sono la sua forza e la sua gloria perché non sono semplicemente una tempesta che è passata sul suo capo adorato ma sono i gesti esterni dirò così della sua attività sublime è l'astra�co